Un abito che fa parte di quella categoria di prodotti che ci vengono in mente quando pensiamo a un abito sartoriale, un bel doppio petto gessato che è realizzato con un taglio classico, con un reverb ben proporzionato e la bottonatura a quarto bottone come solito fare. Le tasca a pattina, quindi diciamo che è un prodotto che dall'esterno è veramente un capo che richiama i canoni classici. Il bello però è dentro e potete vedere la bellezza di questa fodera che vi ho già mostrato in passato, ma applicata qui secondo me sta molto bene, ha veramente sapore, della scuola da tele. Notate la bellezza di questa splendida opera d'arte inserita all'interno del prodotto e questa è ovviamente una linea che ci teniamo a seguire, quindi dare un collegamento importante tra quello che è dal sarto e Roma, dal sarto e quella che è l'arte che fa parte della nostra città e da omaggiarla inserendola come foda nei nostri capi. Quindi è un prodotto da giorno, veramente raffinato, che spero vi sia piaciuto. Ci vediamo da calzato.